Manulitec ha prodotto film di pacchetto per la industria di alimentazione e farmaccia in un'area di prodotti. In 2019, Manulitec ha investito nella sua prima linea Salpine. E la qualità di film era così convincente che hanno deciso di acquistare una seconda linea. Questa volta una linea 7 con inline MDO. Il progetto per Manulitec era di guidare il mercato emergente sull'orientazione PE. La linea nuova MDO produce film di PE, film di laminato di EVOH e molti altri prodotti che contribuono alla economia circolare. Alpine è il pioniere della tecnologie MDO, con più di 25 anni di esperienza di spettazione mono-axiali. Più di 100 MDO di Alpine lavorano in tutto il mondo. Per garantire l'optimizzazione e l'eccellente processabile, i nostri MDO sono equipati con tre funzioni uniche. Il sistema TRIO, l'intervento migliorabile e l'eccellente Vacuum. Il sistema TRIO, l'intervento migliorabile e l'excellente delle minuti e le nostre line sono completamente preparate in Germania.